Salve a tutti, sono Andrea Bruno, come al solito siamo qui in questo consuetudinale appuntamento radiofonico per chiarire diversi aspetti, diverse problematiche che riguardano i paesi dell'est. Questa volta qui siamo qui per un argomento, un tema molto particolare, che negli ultimi dieci anni ha avuto un successo strepitoso e entusiasmante, ovvero il servizio Pellegrino No Problem. Il servizio Pellegrino No Problem, come tutti sapranno, è quel servizio creato a paravento per tutti i pellegrini che di solito sono consuetudini andare nei paesi dell'est, ovvero il servizio Pellegrino No Problem crea tutto un supporto, un insieme di situazioni, a difesa e a tutela del pellegrino che va nei paesi dell'est, creando anche nei confronti di costui tutto un insieme di paraventi, di scusanti, che vanno a celare quali sono le vere motivazioni per cui questo pellegrino viaggia a dest. Siccome Domine Dio, che è qui con noi, ha fatto una sua riedizione del servizio Pellegrino No Problem, passo a lui la parola e gli chiedo quali sono gli aspetti concernenti il servizio da lui proposto. Quindi diciamo l'idea da che cosa nasce innanzitutto? Dal fatto che anche lì la cintola del pellegrino è cambiata. Avevamo negli anni 90, negli inizi del 2000, frotte di pellegrini che andavano in Russia e bisognava avere quindi una presenza in Russia. È stata la prima frase dove abbiamo visto presunti imprenditori andare in Russia per raccontarsi che volevano investire. Solo pochi ci riuscivano e molto spesso, come dimostrano anche i dati dell'export, erano quelli a cui avevano altri gusti in materia sessuale. Ma secondo te che questi pellegrini che andavano nei paesi dell'est, così per dire, a investire, ma loro ci credevano di andare lì a investire o era solo una scusante, che ne so, per la moglie, la propria famiglia, in Italia, per gli amici, parenti? Almeno loro erano convinti di andare. È secondo me il classico caso di illusione psicologica. Cioè la parte conosce che dentro lì si è convinta di andare lì veramente a fare qualcosa. Perché vuole stare. La parte inconscia sa che sono tutte stronzate. E quindi la cosa si nota soprattutto perché le prime domande che ti fanno sono sempre ma come sono le donne? Cosa fanno le donne? Sono aperte o sono come da noi? Che è la classica domanda. Però dentro la loro mente si è ancora convinti che se ne accorgono dopo due o tre anni che si trovano nel posto che perdono i tre quarti del tempo a cercare donne e lasciano poco spazio al business. Questo è il cosiddetto fattore disturbo che è stato da noi più volte teorizzato. Ma allora alla fin fine il fatto che comunque pellegrini in Russia, paesi dell'est, arrivano a frotte, però che la presenza italiana nel business, nel settore business, è praticamente nulla, è dovuto a questo fattore di illusione collettiva, giusto? Sì esattamente, dell'illusione collettiva che quindi venendo da ambienti repressi si sono stati, si sono trovati di fronte a un mare magno sconosciuto e molte anche cinquantenni, sessantenni hanno perso la testa quando ci si sarebbe aspettato una sorta di un comportamento molto più consono. Ma praticamente questi pellegrini quando salgono sull'aereo da Malpensa o da dov'è per andare a Russia. Loro fanno quelle due oltre ore di viaggio di auto, di training autogeno pensando devo andare a Russia, devo fare il business, devo andare a Russia, devo fare il business. Sì esatto, esatto. E' raro trovare... Vendono la prima ragazza col vestito tigrato e dico ma vaffanculo il business. Sì, sì, no, ma poi impazziscono perché sembra che sia integrato, sia una sorta di segnalazione, ma il problema è tant'è che è chiaro di trovare, è raro anche trovarne qualcuno che sia consapevole che va in Russia per determinati scopi. Il servizio, la mia riedizione del servizio Pellegrino No Problem nasce per quale motivo? Perché si sono scontrate tutta una serie di problematiche che questi soggetti affrontavano. Prima di tutto a far sbarcare a livello europeo la sgrillettata di turno. Secondo poi, mezzi e strumenti di tutela contro comportamenti... Cioè, tu intendi che il secondo step, una volta andato in Russia a fare il business, non concluso niente, il secondo step automaticamente è da portare, far sbarcare quindi in Europa la sgrillettata, ovvero quella col vestito tigrato e i brillini sulle unghie... Eh sì, che da sette generazioni non ha presente un maschio in famiglia, di farlo sbarcare sul territorio europeo. Naturalmente esistono dei scanti... Ma perché il Pellegrino, dopo approfondiamo bene questo problema, perché il Pellegrino, lui, magari di dieci ragazze normali, lui va proprio a prendersi l'unica che veste il tigrato con i brillini sulle unghie, che non c'è un uomo in famiglia da sette generazioni? È una questione di complesso, molto probabilmente tutto è imputabile al genere romano. Il genere romano, durante l'antica Roma, c'era la prostituzione sacra, in cui queste prostitute erano venerate, erano centri in cui i rupanari, che erano considerati di devozione al Dionisio, venivano considerati centri di devozione. Probabilmente in questi soggetti è rimasta, in un certo senso, una nemesi storica, per cui di fronte al tigrato, probabilmente di fronte a queste pelli di tigre che già all'antica Roma venivano usati, di fronte al tigrato c'è la nemesi, la memoria storica dell'inconscio, che fa qualcosa di porta la persona a deviare dalla retta conoscenza, dalla retta conoscenza, da un modo retto di comportarsi anche nei confronti dell'altro sesso. E fa scegliere direttamente la donna che sette generazioni, che non ha un maschio presente, non sa che cosa vuol dire avere un padre, ma non sa solo un padre, ma nemmeno un nonno, nemmeno un bisdonno, perché in cui ti posso dire la madre ha solo presenza di donne in famiglia. Ma che mi dico io, ma non è meglio prendersi la classica ragazza acqua e sapone che ti fa a casa la pasta asciutta, l'insalatina, la zuppetta, che andarsi a prendere proprio il gnotone che vestirebbe. Quello sarebbe meglio, però essendo geneticamente predisposti, perché ricordiamoci sempre che la gradazione presente del pellegrinaggio anche nell'italiano più evoluto, nell'uomo della città del pellegrino, più evoluto, non può scendere per questioni genetiche sotto il 25%. Possiamo correggere questo difetto, cercare di controllarlo, ma diciamo esiste questo genere umano? C'è un quinto, ovvero un 25%, anzi un quarto, un 25% di fattore pellegrino è obbligatorio in qualsiasi individuo che vive al di sotto della città del pellegrino, per cui parliamo dal parallelo che passa da Vienna scendendo sotto. Esatto, quella è una presenza molto forte, quindi alcune che deriva dalla nemesi storica romana in cui noi abbiamo questa prostituzione sacra e quindi col passare del tempo questo gene è sepoluto, però di fronte al tigrato scatta ancora, è come per dire il gene dei capelli biondi per le popolazioni del nord. Sotto esiste il gene pellegrino che fa scattare ancora tutta una serie di questioni, tutta una serie di fattori che comunque anche la persona... Diciamo che calamita il pellegrino sono anche tutte queste serie di contorni, diciamo che la sgrillettata automaticamente accalamita di più il pellegrino. Io a questo punto racconto anche una piccola storia che è una storia vera, non è un aneddoto, una storia vera che è successa, a un mio caro amico che questo caro amico se si potesse stilare la classifica del pellegrino questo sarebbe sicuramente annoverato come il re dei pellegrini, il mio caro amico conosce una ragazza lituana e chiaramente la ragazza lituana veste tigrato, lui gli ha dato il nomignolo Panterocchka, perché ricordiamo lui è un pellegrino, questa ragazza qui è proprio la classica sgrillettata che veste tigrato con le unghie con su tutti i brillini, quelle cazzatine lì. Allora, questo... una volta io gli ho detto a questo pellegrino guarda che... ma la ragazza secondo me lei il padre non ce l'ha e lui gli si è arrabbiato come mi fa ecco Andrea, te sei sempre prevenuto, invece no, lei il papà ce l'ha, sei te che con tutte queste fisime sei prevenuto, sei anche un po'... la tua è diventata quasi una malattia, invece io ti farò vedere che il padre ce l'ha, le tue sono soltanto supposizioni. Quando poi siamo andati così occasionalmente a Vilnius, io ho conosciuto questa ragazza, era anche il suo compleanno e io gli ho chiesto ma guarda, mi ha detto... non è che mi voglio fargli affari tuoi, però mi ha detto il nostro amico comune che te quando eri piccola tu il papà ce l'avevi, vivevi a casa col papà, ma a me questa cosa qui mi sembra un po'... guarda io ci avrei scommesso che tu il papà non ce l'avevi e lei mi fa... no no io... guarda ha ragione Sergio, io quando ero piccola mi ricordo che vivevo a casa, c'era il papà, però il papà si era portato a vivere un'altra donna, si era portato a vivere un'altra moglie in casa con lui e la mamma la teneva lì come serva e se non faceva quello che diceva la picchiava, lui intanto in casa viveva con un'altra. Cioè tanto per farvi capire come è proprio l'indole della ragazza sgrillettata, ovvero la ragazza sgrillettata, quella che veste tigrato, che non è una ragazza tipo per la bussia, però il pellegrino chissà come mai va proprio a raccattare questo tipo di ragazza qua. Il tipo di ragazza standard del pellegrino è una ragazza che non ha un papà e non ce l'ha da sette generazioni, oppure caso fortuito, perché uno su mille può succedere che il papà ce l'ha, sono situazioni anomale come quella che è successa, questo pellegrino, che la ragazza l'aveva sì col papà, però il papà praticamente viveva, aveva ridotto in schiavitù la mamma e lui viveva con un'altra donna nella stessa casa. Eh sì, esistono anche altri diversi casi del genere, ad esempio esistono anche quella che quella che ha il padre che da generazione ha tipo la mamma mignotta, che aveva la mamma mignotta e il padre per tenerla sotto controllo ha un bel fucile ubriaco e sparava tutte le volte che la donna sgarrava per spaventarla e gli sparava sulle gambe. Io conosco anche casi del genere in cui... E sulle gambe, nel senso che non la prendeva altrimenti le staccava le gambe. No, nel senso che no, proprio iniziava ubriacandosi, ubriacandosi pesantemente, prima sparava in aria, avvicinandosi col fucile, pom, alla testa, fingeva e poi una volta, per tenerla un po' sotto pressione, una volta che lei è tornata a casa la sera, si è presentato, gli ha sparato, gli ha sparato sul ginocchio e la donna all'età di 60 anni ancora fatica a soppicare. Quindi, vediamo, la figlia praticamente ha ereditato questo tasso di gra... nonostante che sia una ragazza che abbia sia padre che madre, ha ereditato la sgrillettaggine dalla madre, perché ricordiamo che anche il tasso di sgrillettamento è più ereditabile, comunque è presente... Sì, beh, è genetico, perché poi è una selezione naturale, se la donna, diciamo, non ha l'uomo e continua avanti per sei o sette generazioni, alla fine, questa donna qui non ha più una tendenza, proprio l'indole di voler fare la famiglia, creare qualcosa nella famiglia, lei sa cos'è la parola la famiglia, può anche fingere di capire la famiglia, si vede soprattutto nelle interviste dei servizi didattic, però lei, nella realtà, il concetto della famiglia non lo concepisce, perché è una cosa che lei non ha vissuto quando era piccola e non ha vissuto nessuno dei suoi genitori. Sì, sì, no, infatti, ma anche nel caso, come quello che mostro adesso, dove esiste la presenza, ha vissuto con la presenza del padre, comunque troviamo in padre, innanzitutto, abbastanza ammanesco, e oltre a essere abbastanza ammanesco, comunque, diciamo, anche abbastanza, abbastanza pesante. Il padre, lui conosce i suoi polli, poi magari il padre dei paesi dell'est conosce, se ha la sfortuna di non trovare una donna normale, ma di sposarsi con la classica sgrillettata, lui sa esattamente come deve comportarsi per tirare avanti la baracca, se no, succede che lei si inventa la classica scusa e non sono tornato a dormire perché ero al compleanno dell'amica e ero da qui, da lì, tutte queste cose, invece, il marito manesco pone rimedio a tutta una serie di problemi derivanti dalla sgrillettaggine della donna in questione. Sì, sì, infatti, sono una serie di problemi perché ancora oggi, all'età di 60 anni, se noi vediamo questa coppia, la madre, tutta la madre di questa ragazza, tutte le volte che spara, tutte le volte che è ubriaco e spara, ancora spaventata, cerca di andare a tenere sotto controllo dai vicini, anche la figlia è spaventata e non sa perché la figlia e il padre si comportano in quella maniera. Ebbene, quindi, naturalmente, però, se noi vediamo, ad esempio, i discorsi che fa la madre alla figlia, consideriamo la figlia attualmente ha 30 anni e nella sua, in Russia faceva, diciamo, l'insegnante, un fatto vero, l'insegnante di scuola, diciamo, i primi anni di scuola superiore per una sostituzione si è trovata lì con, diciamo, un ragazzino all'età di quando lei aveva 24 anni, un ragazzino un po' più intraprendente del solito che ci ha provato naturalmente la ragazza essendo originariamente e genticamente una sgrillettata, figlia di madre sgrillettata, anche se presente col padre, ma sempre figlia di madre sgrillettata, ci ha andato a letto e lì dentro... Ma il ragazzino quanti anni poteva avere? 15 anni, parliamo di 15 anni, è successo dentro la scuola poiché la madre del ragazzino ma dove? In Russia, in Russia, ci freniamo nella... parlo della regione sud della Russia nella regione di Saratov. La regione di Saratov è famosissima per questi episodi. Infatti, infatti questi episodi è andato soprattutto all'inter... parliamo una cosa del villaggio, c'è stato una scandalo in cui la madre e la madre del bambino e la ragazza hanno fatto anche abbotte. E chissà come era contento il bambino, diceva no no ma... ma no no mamma finalmente un insegnante un insegnante un insegnante un insegnante infatti, infatti, quindi noi parliamo anche di questi di questi diciamo anche di questi casi quindi diciamo parliamo di un ambiente in cui ci sono anche molti di questi casi di queste situazioni che... Ma scusa se ti interrompo ma allora praticamente il pellegrino che va in Russia lui con tutte le ragazze normali che ci sono perché poi va detto se no sembra di additare la Russia in Russia praticamente le ragazze sono almeno per due terzi sono ragazze bravissime ragazze di casa che non vestono i vestiti tigrati i brillini sulle unghie non vanno di notte a fare le civette in discoteca in Russia proprio la maggior parte delle ragazze in discoteca nei club così neanche ci va sono ragazze brave buone di far via però il pellegrino che va in Russia chissà come mai lui accalappia un tutt'altro tipo di ragazze ovvero questo il tipo di ragazze che noi chiamiamo le sgrillettate e diciamo che comunque possiamo dire che anche se non è una sgrillettata al 100% come può essere il classico caso di sette generazioni comunque vediamo che è una percentuale di sgrillettaggine piuttosto altra parliamo di intorno al 60% 70% vuol dire già indossare le calzature a stivaletto quelle quelle con lo stiletto che le calzature che finiscono a punta il vestito che la che al massimo si 60% vuol dire che già per dire tende a vestirsi di pitone tende a vestirsi di pitone tende a vestirsi di già quello per dire la borsa di zebra tutte quelle cose lì si si e ricordiamo che anche se esiste la presenza di un padre non è detto che sia il suo e ma di tutto non è detto che sia il suo secondo poi oltre a non essere per suo e affermiamo che è sempre un padre un po' particolare ma il punto a cui io volevo arrivare ma l'uomo russo siccome lui conosce i propri poli lui sa come tenere la famiglia perché chiaramente per tenere uno si può anche accoppiare con la sgrillettata che non ha un padre da sette generazioni però a quel punto lì sono scusatemi la volgarità per mandare avanti la famiglia bisogna fare cazzo e cazzotti cioè la donna va trattata in quel modo lì allora l'uomo russo chi ha polso e può farlo perché lui comunque nel suo paese è tutelato perché nel caso che la moglie cosa succede nel caso in cui la moglie sgrillettata va dal marito saggio che la mena in Russia e nel caso in cui delle volte ci sono stati casi in cui vedendo anche situazioni per strada osservandole anche in città insospettabili come San Pietroburgo in cui si vede il marito picchiare in strada la moglie la polizia lo ferma e la polizia un po' succede benissimo che aiuti il marito a menare oppure molto spesso nella maggioranza dei casi risponde che sono problemi familiari ma molto spesso molto spesso può capitare che la polizia nel caso in cui trovi il caso grave esista la cosa in cura la polizia prende abbastonate la suddetta moglie sono stati casi che sono stati vissuti personalmente il mio primo impatto con la Russia fu ero in casa dello studente a San Pietroburgo eravamo usciti con altri studenti in discoteca c'era una coppia a un certo punto ho visto per strada la coppia uscire lui che prendeva schiaffi lei io con la mia mentalità da europeo della cintola del pellegrino vedendo due poliziotti mi sono immaginato adesso l'arrestano i poliziotti hanno chiesto e quel caso non solo non l'hanno arrestato ma vedendo il passaporto vanno chiesto il passaporto i documenti i poliziotti hanno iniziato a picchiare lei fu nel senso questo fu il primo impiatto della Russia ha incominciato a menarla a menarla di botte delle volte è capitato anche che nel caso in cui per evitare proprio dei mi è capitato d'assistere che per evitare delle situazioni diciamo forse anche più tragiche la polizia affermasse direttamente la polizia russia dicessi chiaramente è inutile che ammazzi tua moglie che tanto lo sai che è una troia se vuoi gli facciamo passare noi la lezione sembra che noi parliamo sembra che stiamo parlando di un paese musulmane ma sono cose che in Russia accadono diciamo naturalmente nel senso per le famiglie nelle famiglie russe in cui dice se è inutile che se serve facciamo noi che siamo la forza che siamo la forza della legge quindi tu puoi stare anche tranquillo vedendo specialmente delle situazioni oltretutto è chiaro si sono state vissute delle situazioni in cui dopo una serata presunto in cui l'espia è presunto avanti che porta a casa il primo venuto perché il marito magari fa il camionista e il marito arriva il giorno prima all'ignaro ospite per capire la situazione il giorno stesso incomincia a friggere da bere e incomincia ad essere amichevole dice come sei stato cosa hai fatto ieri sera per farlo parlare in maniera molto amichevole una volta che l'ospite se ne va e incomincia a picchiare la moglie perché andava con un altro si si magari a lui ma è successo anche qualche pellegrino magari a lui non gli dice niente e ci bevono sopra però poi quando lui se ne va quello fa la faccia come un pallone alla moglie si si no ma infatti infatti c'è anche nelle famiglie normali russi l'educazione che è il maschio dice e dice se non vuole botte non devi fare la zoccola ma allora torniamo al discorso del pellegrino il pellegrino che lui va in Russia lui ha un ventaglio di ragazze bravissime da scegliere c'è quella che ti fa la zuppetta quella che si veste con il golfino con il collo lungo quella che quella che cioè proprio le classiche ragazze bravissime che ti puliscono la casa ti accudiscono i bambini così no il pellegrino lui si va proprio a prendere la ragazza russa con il gene sgrillettato ovvero che non ha un padre da sette generazioni e non sa nemmeno lontanamente cosa sia il senso della famiglia ma poi questo pellegrino qui in Italia mica la puoi tenere non mica la puoi prendere a botte per farla rigare dritta lei questa cosa fa e lì deve in Italia capisce che in Italia come ha messo il peso in Italia ha acquistato un potere immenso che prima lei questo potere non l'aveva in Russia perché in Italia è un paese di pellegrini che gli sbavano dietro lei ha questo potere immenso e si mette a fare la civetta ma se il marito non può usare il metodo che si usa in Russia per tenere la bada poi questo come funziona qui la famiglia come va avanti diciamo la famiglia va avanti male perché poi incominciano le corna incominciano le discussioni lui soffre quel punto dell'attenzione perché diciamo ritorniamo consideriamo anche il fatto che sono in realtà due soggetti che si trovano in una situazione contrastante che lui di fatto cerca il fenotipo della madre e lei cerca che cos'è lo sponsor che mena la figura archetipica del padre quindi trovandosi in queste situazioni diciamo nella provincia di Foggia nella provincia d'Agrigento in Sicilia sono stati i famosi dei casi su cui la polizia ha indagato in cui con marito disoccupato moglie scrittata il marito ha detto che era attorno alla moglie e dice senti io non ti dico niente ma se porti i soldi a casa sei un bene e diciamo che questo sodalizio di solito ha funzionato e stava a livello tecnico ha creato anche problemi perché ricordiamo che per fare la civetta gratis tanto vale che mi porti i soldi a casa anche a me no sì infatti però ha creato anche dei problemi perché ricordiamo che la legge sullo sfruttamento della prostituzione in Italia non è affatto chiara perché consideriamo anche che mentre è vero che ogni legge diciamo disciplina lo sfruttamento della prostituzione in maniera negativa in ogni paese europeo però diciamo nei paesi della scintola della spugna esiste una normativa recentemente adottata anche in Bulgaria in base a cui se tu affitti un appartamento a una che poi esercita l'attività di prostituta la ti posso dire e lei non dichiara di esercitare questa attività tu puoi richiedergli l'affitto come se stessi affittando un locale commerciale di varie metratura quindi diciamo è una normativa diciamo molto diciamo diversa rispetto alla normativa italiana mentre in Italia addirittura è permesso alle prostitute non pagare le tasse quindi questo problema questa situazione ha creato dei problemi di fatto perché era il marito ma anche lo sfruttatore si sono verificati casi in cui essendo state delle regioni target queste persone si spostavano per altre parti d'Italia ricordiamo che in alcune regioni parti del nord Umbria o nelle parti anche dell'entroterra marchigiano si è verificato o in Toscana si è verificato una frotta di persone che venissero da queste province con la moglie sgrillettata in cui mandavano la moglie in giro e a prendere tanti diciamo a tirare su di sé a fare la civetta a tirare su di sé alla fine nella mia città d'origine ho trovato insomma c'è stato un caso pazzesco in cui un mio amico commerciante vendeva scarpe e vendeva scarpe arrivava sempre una ragazza ucraina sposata con un foggiano però Verdi aveva una volta un personaggio che faceva il panettiere che gli comprava le scarpe un'altra volta andava a fare la spesa con un personaggio o con altro personaggio questa qui portava praticamente a casa le scarpe i vestiti e una volta addirittura è stata capace di dire un altro con cui faceva la civetta devo fare un regalo a mio marito il alla fine il commerciante non c'è limite a essere cornuti uno può arrivare anche a livelli altissimi sì no ma è stato diciamo è stata presa la filosofia è stata considerata la risposta che è stata data da questa gente è stata dalla filosofia dell'affitto ovvero va bene accetto le corna però è chiaro che se stai nel senso utilizzi un mio appartamento che riguarda l'oggettificazione il mio appartamento devi pagarmi l'affitto se no sono verificati i casi però è chiaro insomma che se ognuno di noi avessi se tu hai tua moglie che un giorno torna a casa che ti ha fatto la spesa non fa niente ti ha fatto i soldi un giorno le scarpe un giorno ti ha fatto un bel regalo un altro giorno ti ha regalato una macchina le cose sono due allora diciamo che c'è anche il sistema per poter portare la sgrillettata in Italia il pellegrino e può stare anche tranquillo a patto che lui sappia utilizzare la situazione torniamo però è difficile diciamo comunque è una situazione per i nostri utenti perché ricordiamo che va anche spiegata che è una situazione diciamo che si trova al minimo del legale quindi diciamo non è auspicabile diciamo protrarre situazioni di questo tipo in Italia esatto soprattutto perché poi può essere che qualche persona possa diciamo additare additare problemi e fare problemi ricordiamo anche che di queste persone che hanno applicato questo sistema molti hanno avuto problemi ma allora diciamo si ho capito diciamo che uno non è mai siccome l'ormativa non è ben chiara non è posto un limite ben preciso e non è chiaro dove si sta andando allora praticamente il pellegrino cosa fa lui deve andare in Russia innamorarsi della sgrillettata portarla in Italia lei fa la civetta e poi cosa va a finire questa civetta qui va a finire a stare con un altro dopo perché il pellegrino gli ha fatto tutti i documenti se l'è sposata gli ha fatto avere il permesso a Scheng lui praticamente fa tutta la fatica tutto lo sforzo e i frutti se li goda un altro diciamo si infatti rischia ma non è detto poi che tra l'altro che l'altro si li goda perché poi magari essendo un soggetto labile perché parliamo sempre di soggetti psicologicamente con una certa zica si li goda per un certo periodo di tempo poi se ne goda un altro per un altro periodo di tempo il sistema è uno shared è uno shared goal si è una shared property come dicono gli inglesi però affermiamo diciamo che i metodi per stoppare la situazione del tipo vuoi fare la civetta va bene fammi guadagnare diciamo sono al limite del legale diciamo le botte in Italia non sono spiegabili perché comunque ricordiamo c'è la legge una votazione e quindi diciamo tutti questi metodi anche sono la richiesta dei soldi nel caso in cui se ne trovi un altro sono tutti i metodi che comunque rientrano nel limite della legge e che quindi vorrebbero far passare più guai però ammettiamo appunto che il pellegrino lui faccia venire la sgrillettata in Italia assorbendosi lui stesso tutti i costi che ne derivano poi questa qui come arriva in Italia è chiaro che lei si guarda attorno scopre di avere un potere incredibile e va con un altro in che modo questo da quell'altro può farsi rimborsare tutte le spese sostenute perché alla fin fine in fondo cosa è successo lui si è dato da fare si è sbattuto e tutto quanto per poi far godere di questi frutti una terza persona che non ci ha messo niente esiste un modo molto semplice nel senso basta mettersi direttamente d'accordo con la sgrillettata e diciamo come è stato fatto da queste preparazioni in cui si afferma guarda vuoi andare con qualcun altro una volta capiti capiti di stare con la sgrillettata guarda conosco la tua natura purtroppo ha fatto alcuni sistemi sono difficili da applicare per me perché siamo in Italia però nel caso in cui nel senso io ho delle difficoltà precise da fatto arrivare se tu nel senso riesci a portare a darmi una scelta i soldi del biglietto dell'aereo i viaggi fatti il tempo perso non solo i viaggi fatti ma anche un aiuto nel senso soprattutto perché ti ho portato qui e di solito c'è da dire che la maggioranza di solito vanno presi anche per sfidimento a livello tecnico perché questi sono ragazzi che comunque sono anche piuttosto pressanti a questo questo anche il tono di voce che va utilizzato va comunque utilizzato un tono abbastanza autoritativo senza incorrere diciamo agli eccessi diciamo di le situazioni russe un modo che in cui lei manifesta una certa dipendenza nei confronti di lui a proposito di questo tema scusa se entro un po' nel personale ma mi è parso di cioè occasionalmente l'altro giorno ho incontrato la tua sgrillettata e sembrava che era alla ricerca di un lavoro e l'ho vista molto sottomessa ma cosa è successo cosa hai fatto è una questione molto tecnica è una questione cioè la cosa va più resa con calma perché vabbè diciamo comunque siamo a Dauka Pils diciamo che io avendo come un disturbo una sorta d'attenzione prima di tutto diciamo ho deviato le sue aspettative lei si aspettava di venire diciamo a occidente io sono qui naturalmente a Dauka Pils quindi diciamo lei si pensava che mettendosi con te sarebbe finita che ne so in Italia o in quel posto invece tu l'hai portata nella patria nel triangolo delle bermuda delle sgrillettate ovvero nell'unico posto dove c'è una fauna vario pinta di sgrillettate a livello internazionale altissimo esatto esatto poi a secondo poi diciamo che a livello di gradazione sono stata avendo lei avuto un padre diciamo che comunque ricordiamo della scintola del pellegrino questo diciamo anche abbastanza il padre non era russo no no tartaro tartaro turco tartaro anzi addirittura quello che è il connubio migliore perché la russia che aveva il papà del sud tartaro oppure anche caucasico quelle sono quelle più addomesticate con un senso della casa veramente affine a quello che intendiamo noi sì ma a parte questo diciamo anche che c'è un discorso pure di base che si anche hanno perché ricordiamo sempre che sono russi quindi un test di sgrillettaggine del 25% anche la più brava con un senso della casa che abbiamo c'è comunque essendo soprattutto il sangue misto un antenato diciamo sgrillettato come l'italiano diciamo quindi di fronte a quegli eccessi va sempre bisogna sempre reagire con calma non prostando attenzione e portando per sviluppo per sviluppo in maniera calma praticamente tu la tua sgrillettata l'hai sfiancata alla lunga sì sì esatto esatto l'ho sfiancata alla lunga con calma con calma e sangue freddo con calma e sangue freddo poche parole precise e quando ma lei non è delusa che pensava di fregarti perché lei andava in Italia poi chiedeva il divorzio e te avevi la residenza lì e si faceva mantenere e invece te hai spostato la residenza in un paese dove a lei non gli spetta niente il caso da quel punto di vista sembra a meno per il momento di aver accettato la situazione abbiamo fatto una cosa di compromesso poi io sono stato anche chiaro nel senso dicendogli guarda se tu vuoi andare con qualcun altro insomma bisogna che contribuisci a me fa cornuto e mazziato cornuto pure 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 mazziato nel senso non è non va bene non va bene è interessante poi tra l'altro la risposta molto spesso che dava la madre a lei diciamo tutte le di fronte a mie arrabbiature che era molto storicamente molto costante se tu fai lo fai nervosire diciamo lui si incazza poi non fare la zoccola perché sennò potresti aspettarti reazioni anche peggiori e il padre di lei invece in casa come era? il padre di lei diciamo parliamo di una persona che comunque utilizzava molto forti controlli è un uomo di polso sì esatto comunque diciamo che in base per cui in lei il gene sgrillettato non ha avuto quell'esito nefasto che può avere in altri soggetti che non hanno in casa un padre del sud ovvero un padre necaucasico o tartaro giusto? esatto oltretutto ricordate la mia c'è avuto anche un fratello che era piuttosto controllante nei suoi confronti diciamo che quando era piccola comunque nel senso nel caso in cui andava con qualcuno che non gli piacesse andava diciamo terrorizzava direttamente il personaggio poi diciamo utilizzava anche la mano forte nei confronti di lei quindi diciamo nel mio caso abbiamo la presenza di due maschi in famiglia che comunque siano mostrati abbastanza di polso e ricordiamo anche insomma tutte e due di religione islamica ecco beh infatti sì comunque è risaputo che la donna russa la ragazza russa per essere normale di aver avuto un padre o del sud o comunque un padre di polso che abbia saputo tenere in pugno la famiglia e come no anche usare le maniere forti nel caso in cui c'è stato bisogno perché noi sappiamo benissimo che se così non fosse la donna slava si comporta come il gatto il gatto non è che si affeziona alla persona che sta a casa tua perché sei bello te il gatto va dove mangia meglio sono domani i vicini gli danno da mangiare meglio di quello che gli dite e il gatto prende e va a vivere dal vicino sì sì infatti poi consideriamo anche insomma che anche nel caso in cui trovassimo donne che comunque avere a che fare con soggetti ecnicamente misti diciamoci facilita per quale motivo perché comunque da una parte sono tartari armeni sono popolazione più vicina a noi quindi la presenza gli dobbiamo certamente d'aiuto mentre con slavi popolazione slavi al 100% come possono essere russi ucraini nel caso anche ci siano russi al 100% ucraini al 100% con un padre locale diciamo che comunque anche se nel caso migliore abbiano essere un padre di polso forte comunque la ragazza tenderà sempre a essere un po' evanescente a essere sempre a pensare a sognare senza avere coi piedi per terra in cui diciamo la manifestazione per magari di quel tasso di sgrillettaggine del 25% che in Russia diciamo un tasso di sgrillettaggine piuttosto nullo quando si trova in Italia può oppure in un contesto della cintola del pellegrino da 25% può esplodere perché in Russia il 25% ricordiamo che nullo come in Italia il tasso di pellegrinaggio del 25% è una cosa diciamo piuttosto normale per la maggioranza in Russia per un essere sgrillettata dal 25% anche la ragazza migliore più brava in Russia con la famiglia si tiene poi per dire in Italia non essendo abituata specialmente dopo i 25 26 anni a una serie di corteggiamenti una serie di attenzioni molto spinte la ragazza naturalmente il gene può scattare quel gene può si decisamente scattare può scattare e può spuntare fuori quindi anche diciamo questo non ci garantisce nemmeno al 100% anche se l'è brava diciamo l'ambiente ricordiamo che la stessa stregua di come i pellegrini una componente di gene pellegrino minimo del 25% salendo fino al 100% ce l'hanno intrinseca nel DNA la stessa stregua la ragazza sgrillettata con ambo i genitori russi una componente andando bene proprio essere nel calcolando la migliore delle ipotesi un 25% di gene sgrillettata ce l'ha anche lei e infatti nella migliore delle ipotesi quindi vediamo che magari uno adesso io da da anche diversi test poi ho fatto uno studio decennale su questo la cosa che mi sorprende è che comunque l'italiano snobba la ragazza che ha un 25% di gene sgrillettata lui va l'italiano arriva e punta direttamente a quelle che hanno l'indicatore di sgrillettagine dal 90% al 100% anzi il più delle volte puntano proprio a quel tipo di ragazza che lo sgrillettometro la lancetta dello sgrillettometro segna proprio il fondo scala sta tutto sul rosso ma diciamo c'è anche un discorso di base che neanche nel caso in cui va con quella che ha un tasso di sgrillettamento basso il 25% diciamo che la ragazza che in quel caso facilmente riesce a cambiare io conosco un netstab baccaio a Bologna che si era preso diciamo una moglie con un tasso di sgrillettamento estremato intorno al 35% siamo su colori molto bassi quindi si diciamo il discorso di rischio intorno al 25% che diciamo erano riusciti a stare assieme perché per 7-8 anni l'ottavo anno assunzione di una donna delle pulizie con un tasso di sgrillettamento del 75% lui ha lasciato immediatamente la moglie per per la tipa per la tipa e poi ha venduto poi oltredutto ha venduto la tabaccheria e ha venduto oltre a aver venduto la tabaccheria nel senso se è praticamente sputtanato tutti i soldi e lei è stata costretta con il figlio a tornare in Russia si era addirittura nemmeno pagare elementi e lui si è sputtanato tutti i soldi con questa con questa ragazza con questa ragazza bielorussa e sta ancora e poi lei appena si è sputtanato i soldi naturalmente ma tutti i soldi l'ha mandato a quel paese quello è un classico in realtà non può succedere diversamente però a questo punto direi di tornare sul filone principale è stato interessante tutto questo discorso più che altro per i nostri radiospettatori che ci seguono da casa ma il discorso principale è la riedizione in una formula esclusiva del famosissimo servizio pellegrino no problem ma in che cosa consiste questo servizio pellegrino no problem e in che modo i nostri ascoltatori che ci seguono da casa possono usufruire di questo servizio quindi diciamo innanzitutto c'è una differenza rispetto al vecchio servizio il vecchio servizio diciamo offreva una tutela psicologica mentale da diverse situazioni oltre a una serie di biglietti da visita segreterie per persone che venivano la scappatella in Russia in base a quella esperienza diciamo si è dimostrato che essendo parlando dei soggetti altamente influenzabili le tutele dovrebbero essere praticamente di tipo estese quindi che cosa succede che la cosa il servizio che viene offerto diciamo è un servizio che riprende gli stessi filoni del precedente oltretutto conoscendo i vari problemi che si sono verificati nel caso viene offerta prima di tutto consulenza all'immigrazione per farla venire in Europa ma a differenza di farla venire in Europa essendo diciamo qui la Lettonia un ambiente abbastanza simile alla Russia viene proposto al soggetto di farla di poter e verrà aiutato assistito per far sbarcare la sua sgrillettata in territorio europeo ma in un primo passo dove diciamo in un ambiente simile a quello che le ha lasciato si è come dire il sommozzatore che sta in apnea 100 metri sotto il livello dell'acqua quello se va su in risalita va su a manetta poi quando arriva su gli viene un'embolia e quello schiatta perché il passaggio è stato troppo improvviso praticamente la sgrillettata verrebbe trasbordata dal pellegrino in Italia passando per una vasca di decantazione da quello che ho capito io sì sì esatto oltretutto cosa che in base allo status del pellegrino verrebbe si fanno anche eventualmente business plan aiuti diciamo che possano anzi spingere addirittura a meno che il pellegrino naturalmente non lavori come statale a poter essere il pellegrino stesso a trasferirsi in loco perché delle volte potrebbe essere addirittura anche la soluzione migliore perché un incontro a mezzo dove e in questo caso viene data la valutazione viene fatta una valutazione generale sulle rispettive sui modi è un po' come il fatto te diciamo che se il pellegrino si fa venire la sgrillettata la fa venire in Italia e poi è chiaro che uno o due mesi poi te la soffiano da sotto gli occhi per cui hai buttato tempo ho speso soldi nervi visita il consolato per fare i documenti per fare il video in Italia magari te la sei anche sposata per poi regalarla a un altro ancora più pellegrino di te allora tu dici noi la sgrillettata la portiamo comunque in Europa documentazione Schengen però per evitare che questa vada via di matto scopri di avere dei poteri incredibili dovuti ai pellegrini attorno che gli sbavano dietro tu la faresti stazionare in Lettonia giusto? esatto esatto noi facciamo stazionare in Lettonia considerando che diciamo una riduzione dei costi anche per eventuali incontri perché ricordiamo che grazie a Wizz Air e grazie a Ryanair i ripoli sono molto meno costosi verrebbe offerto oltre a tutta una serie di servizi fatti in precedenza viene offerto anche il servizio veniamo a prenderti in aeroporto in guida veniamo a prendere tramite con la macchina all'aeroporto di Vilnius e oltre a farla stazionare qui viene creata si cerca comunque di creare una situazione in cui diciamo la la sgrillettata anche diciamo e questo vale anche per la ragazza brava possa avere una camera di adattamento a quella che possa essere buona vita in Europa e poi invece per quello diciamo in Lettonia per quello che è riuscire a prendere ottenere tutta la documentazione inerente al soggiorno legale nell'area Schengen cosa ti dice la tua esperienza? che diciamo rispetto a quello che può essere diciamo che la Lettonia essendo un paese di migrazione diciamo per prendere tutti questi documenti risulta essere diciamo la situazione è molto più sbrigateva in base alla situazione si può riuscire a prendere i documenti nel giro di una o due settimane diciamo abbiamo dei tempi accelerati molto rispetto a quelli che sono gli altri paesi europei quindi sì perché è normale nel senso l'ufficio di immigrazione non è così obberato di richieste come può essere obberato di richieste un ufficio di immigrazione italiana o come può essere un ufficio di immigrazione francese e invece per quello che riguarda la situazione ad Augapis per il pellegrino dove la collocheresti tu da Augapis visto che rimane a pochissimi chilometri dal confine con la Bielorussia zona di transio l'ultima la prima città la prima fermata ferroviaria arrivando dalla Russia dalla linea ferroviaria che collega San Petroburgo Pskow a pochi passi dalla Lettonia in loco via la comunità addirittura polacca una concentrazione abnorme di ucraini come dal punto di vista di livello di sgrillettaggine cosa ti dicono i tuoi indicatori che è piuttosto il numero non so di elementi statistic come i salon di bellezza diciamo che vista la presenza di salon certamente i salon sono uno ogni cento metri diciamo che il tasso è piuttosto alto quindi diciamo il tasso di sgrillettaggine diciamo quindi che il soggetto che arriva qui certamente anche single può essere una mera sicuramente alternativa per divertirsi e che costa sicuramente molto di meno ci sono diciamo su una stessa via la cosa che mi ha colpito che nella via dove abito ci sono circa tre salon nel giro di nel giro di quattro metri nel senso tre salon addirittura nella via perpendicolare a quella dove abito ce n'è un altro diciamo questa diciamo la presenza fa diciamo da sfonda un sistema dove le ragazze sacchittano in maniera piuttosto pesante sicura in maniera piuttosto presente il che vuol dire che questo eccesso di cura porta diciamo un segno con un tasso di sgrillettaggine piuttosto alto e il tegrato invece che gioco fa qui ad Augapis il tegrato si trova anche questo in una buona percentuale si trova soprattutto tant'è che se si vede i negozi al Targovicenter centro commerciale locale si vede che c'è quelli che vendono di viso e quelli che vendono tigrato e coccodrillo tigrato e coccodrillo macchiato cioè tutti comunque vestiti piuttosto ristosi ma allora diciamo il pellegrino no problem per quale motivo dovrebbe cioè proprio così riassumendo usufruire dei tuoi servigi prima di tutto perché nel caso in cui abbia già una sgrillettata da tiro noi gli forniamo una consulenza una camera iperbarica da adattamento in cui anche se sia una brava ragazza gli diamo possibilità di adattarsi nel momento stesso in cui prende i documenti inizia la conoscenza con quello che è l'Europa e via una camera a lui al contrario offrimo anche a lui una camera da adattamento una possibilità di venire qui investire e poter diciamo usufruire di una consulenza anche nel caso in cui lui debba decidere di compiere l'insano gesto e quindi in quel caso in cui sarà a nostra cura fare tutta una consulenza completa su tutti i modi su tutti i modi che a lui di tutelarsi in maniera ufficiale per eventuali problemi in questione questo creerà nelle persone con un certo grado di adattamento e quindi un certo grado di rilassamento che porterà piano piano la situazione a normalizzarsi perché verrà studiata la situazione personale e verranno suggeriti anche eventuali soluzioni poi è chiaro naturalmente che esiste anche chi lavora nello Stato queste persone è chiaro che diciamo trasferimenti all'estero sono molto più difficili da fare o in grosse aziende private ma verrà anche in questo caso segnalato il paese migliore dove vivere con la sgrillettata e dove fare anche una dove poter fare diciamo anche una vita una vita normale piuttosto tranquilla senza avere grossi stress quindi diciamo è un aiuto molto psicologico oltretutto ricordiamo che essendo avendo costi ridotti in investimento in ambito mobiliare offriamo anche la possibilità a persone di potersi creare diciamo anche un proprio reddito con un capitale piuttosto basso per l'apertura consulenza per l'apertura dei negozi che è una cosa diciamo piuttosto sotto mano un immobile che stai cercando di vendere a proprio prezzo offerta sì sì ho sotto mano diversi immobili qui hanno detto anche che è incominciata anche la ristrutturazione oggi di